Ho scritto questo post su Facebook in cui riflettevo su Sanremo perché mi interessava sentire il parere di amici virtuali e non su Facebook e ho raccolto diversi pareri. Il post nasce perché mentre guardavo la tv è partita questa sigla della seconda serata di Sanremo e sento appunto il cantante che davvero stona, ma stona tanto. Io da musicista dico non posso lasciare questa cosa con la stand innovation del pubblico e non dire niente. Allora volevo dire la mia. Prima di tutto anche se tu sei un musicista che ha scritto delle belle canzoni, se attualmente stoni questo non è secondo me accettabile in un festival in un contesto così importante come Sanremo. Perché oltre a guadagnare tantissimi soldi dai anche un grande esempio. Quando dirigi un festival così importante chiami la gente, sei anche tu a decidere chi parteciperà a questo festival e poi noi ci ritroviamo ad avere una serie di cantanti musicisti che poi diventeranno probabilmente anche famosi in Italia. Alcuni dicevano ma la musica leggera deve essere musica orecchiabile, ma certo sicuramente, però musica orecchiabile deve essere intanto cantata intonato, quindi con la qualità almeno dell'intonazione. E la musica orecchiabile viene detto la massa, però la massa è anche fatta di individui penso, quindi sono tanti individui che creano una massa. Allora dico ma l'individuo però dovrebbe essere pensante, non dovrebbe seguire la massa e allora mi viene da pensare che appunto noi non siamo più stimolati, non abbiamo più la musica che ci circonda, la musica di qualità che ci possa anche far uscire un po' dai nostri canoni. Adesso senti parlare di musica colta, mi viene detto ma la musica colta? Ecco questa musica colta è diventata colta perché non siamo più in grado noi di uscire da questi paesi, è troppo difficile, siamo abituati ormai solo ad avere questo. In America, un posto che ho frequentato molto e dove ho anche vissuto per beni periodi, se tu vai a New York una massaia conosce il jazz e ti sa dire chi è Charlie Parker. Perché non sono più intelligenti di noi ma hanno a che fare con questa musica quotidianamente, nelle radio, nelle tv, entrano in un club e suonano musica che non sia solo musica leggera, nelle sigle dei film, dei telefilm. Se le nostre radio e le nostre televisioni ci dessero un po' più di questa musica, i club con la musica dal vivo ci dessero un po' più di questa musica e non solo tributi a Ligabue e Vasco Rossi, magari le persone, i ragazzi potrebbero abituarsi a questa musica e crescere e avere degli stimoli nuovi. La testa ormai non è più in grado di percepire qualcosa che esca da questi binari che stanno andando stringendosi sempre di più ormai dagli ultimi 30 anni. Altre cose che mi vengono dette spesso, però se tu pensi che quell'artista ha venduto milioni di copie, se è famoso qualcosa di buono avrà. Ma a volte ha qualcosa di buono seriamente, altre volte questo qualcosa di buono non è tanto legato alla musica ma magari è legato più alla furbizia e alla capacità nel marketing. Se tu sei in grado di raccogliere quello che vuole la massa e di venderglielo al meglio, riesci a fare successo, a vendere milioni di copie e diventi famoso. Ok, in quel caso uno può essere considerato bravo ma bravo in furbizia, bravo in operazioni di marketing. Hai creato un prodotto funzionale ma non hai creato musica di qualità. Un altro problema è sempre legato alla cultura nostra, alla cultura dei talent. Ormai i ragazzi sono diventati solo arrivisti. La maggior parte vogliono arrivare, vogliono apparire prima ancora di imparare, prima ancora di avere qualcosa da dire. I talent sono diventati un fenomeno importante e anche molto pericoloso. Perché ad esempio l'altro giorno c'era Federica Pellegrini in giuria in un talent. Allora Federica Pellegrini è una grande campionessa di nuoto ma io mi chiedo ma cosa c'entra con la musica Federica Pellegrini? È come se io andassi a giudicare il nuoto in un talent e io di nuoto non ne capisco niente perché io sono un chitarrista e non so niente di nuoto. Il problema è che poi questi talent non vanno presi così alla leggera come dire ma sì è un divertimento, è qualcosa di leggero. No perché alla fine i vincitori di questi talent fanno i dischi con le major e ce li ritroviamo poi nei concerti, nelle grandi piazze, nei teatri, in televisione e sono lì perché sono stati giudicati da una giuria che non è competente. Io proporrei di chi vuole conoscere qualcosa di più di andare a conoscere attraverso il web, attraverso magari amici o musicisti che ascoltano un'altra musica e quindi andare a vedere che cosa c'è nella musica, che cosa è stato importante, quali sono stati i grandi cantanti di musica leggera, di musica rock, di jazz. E poi creiamo delle giurie magari diverse, Sanremo, Italia, magari un musicista classico, un musicista di colonne sonore, un musicista jazz, due cantanti di musica leggera e uno scrittore che sia in grado di capire se il testo ha un certo valore o no. Mettiamo Riccardo Muti, Ennio Morricone, mettiamo un grande pianista jazz, Stefano Bollani, mettiamo Mogol e mettiamoci magari due bravi cantanti, cantautori italiani ed ecco lì che abbiamo una giuria fatta con diverse teste di estrazione stilistica diverse e che vanno a confluire poi su un unico giudizio. Un'ultima osservazione è, ok, ci può stare qualsiasi genere di musica, è giusto che abbia tutta la musica che gli piace a disposizione. L'unico problema è che c'è quasi esclusivamente questa musica, mentre invece dovrebbe esserci musica per tutti i gusti e per tutti i livelli, dovrebbe esserci la musica leggera italiana. Belliscio. Pop di qualità Come il rock Come il jazz E la musica classica E la musica classica